Il 14 concorrente, genere e canto, lei si chiama Priscilla Panella. Signore e signori, canta Priscilla Panella, grazie. 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 Signore, tutti, tutti quanti, tutti e 17 concorrenti hanno una bellissima voce, anche chi canta, chi non canta ma balla. Anche chi non canta c'è una bellissima voce. Grazie Priscilla. Quanti anni ha Priscilla? La giuria vuole sapere 17 anni, signora Maria Stella Scala. Tra una settimana? 21, quindi di 16, che aumenti? Vabbè, 16. Complimenti, grazie ancora e in bocca al lupo come tutti gli altri ragazzi. Grazie.